Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, è uno di quei pomeriggi in cui la mia massima aspirazione era ascoltare a ripetizione colonne sonore dei film di Miyazaki e mangiare torta e quindi ho detto facciamo una cosa diversa, togliamoci da questa depressione incipiente e giriamo un video, un mi preparo con voi. Ovviamente appena ho detto questa cosa è anche arrivato il tizio che spazza via le foglie, quindi se senti di un certo rumore è l'uomo delle foglie, l'uomo del mistero che appare quando io comincio a girare video. Non ci fate cazzo. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili e cominciamo questa preparazione super simple, come al solito ragazzi, una delle mie preparazioni super veloci, super niente di che, per passare un po' di tempo insieme. E cominciamo con questo che già vi avevo fatto vedere, che è il prodotto che uso come base per il viso in questo momento, che è profondamente un idratante colorato di Laura Mercier, eccolo qui, e che vado ad applicare proprio come una crema in realtà idratante, più che come un fondotinta, con le dita, così proprio in maniera extra, extra, extra brutale ed extra, extra, extra barbarica. Comunque ragazzi, io vi giuro, io questo tizio delle foglie, no, che viene a fare le foglie come io comincio a girare i video, io me lo immagino nascosto come uno stalker da qualche parte nel cortile, dietro un c'è spuglio, che aspetta. Quando vedi che si accendono le luci, che tiro fuori la telecamera, comincio a fare le foglie, se no non si spiega. Come potete vedere questo fondotinta, questa crema colorata, idratante, non è che faccia granché, uniforma un po' il colorito, ha un filtro solare, dà un'idea, insomma ti fa essere più in ordine, però non è super 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 coprente, super 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 opacizzante, che è una cosa che a me non piace. Passiamo oltre, sono indecisa se applicare un poco di correttore, oppure no, forse un poco, così lo uso anche come una base per l'ombretto. Quello che io uso è lo shape tape di Tarte, eccolo qui, ma nel frattempo ragazzi vi prego ditemi, sempre con le dita, sempre in maniera molto villana, ditemi che non sono la sola che ha questi momenti in questione, dei pomeriggi in cui io proprio, non lo so, oggi ve lo giuro, ve lo giuro, volevo soltanto nella mia vita ascoltare musica dei film Ghibli, mangiare torta, stare sul letto, non fare una ceppa di niente, questo sarebbe stato proprio il mio ideale odierno, ma non ho ceduto, ditemi che non sono la sola però, che anche ad altri capita di avere questi momenti, altrimenti finirò per sentirmi veramente come... Vi devo dire che tra l'altro, vabbè, l'avevo già detto, questo periodo in generale, questi mesi sono stati un po' complessi per me, perché ci sono tante cose in ballo, tante cose che stanno andando avanti, che stanno cambiando, idee, decisioni da prendere, cose, cose nuove, e quindi è un periodo un po' così, è un periodo un po' sbattuto, e non lo so, è stato un po' difficile, è ancora un po' difficile, è un periodo ancora in corso un po' così, e poi c'è la cosa per cui per me gennaio e febbraio sono dei mesi in cui proprio l'energia è un po' più bassa di quanto non sia di solito, un po' penso che sia una cosa generalizzata, perché in fin dei conti, per esempio, a gennaio c'è anche il giorno più depresso dell'anno, no? Quindi forse è anche il fatto che dopo le feste di Natale, per tutti, per tutti, per tutti, è un periodo un po' così. Per me è sempre un mese che è sospeso tra l'inverno e l'inizio della primavera, nel senso che anche se comunque fa ancora freddo, è ancora inverno, 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 nel mio cervello cominciano ad accendersi delle lucine che dicono primavera, 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 e quindi c'è questa specie di cosa dentro di me per cui il mio intero essere comincia a proiettarsi verso la primavera e l'aspetta. E anche se ci vorrei ancora un po' prima che la primavera arrivi davvero, non fa niente, io comincio già ad aspettarla, proprio con tutto il mio corazón. Certo, ragazzi, sono anche indecisa sui colori che vorrei usare, avevo preso queste due palette, volevo fare una cosa più gialla, bu, 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 gialla, arancione, colori che rallegrano perché il momento lo richiedeva, però in realtà poi alla fine adesso sto dicendo dentro di me vuoi veramente fare questa cosa gialla, arancione, oppure vuoi fare qualcosa di più rosa? Ho visto il rosa e mi è venuto in mente rosa, non lo so, non so che cosa fare. In fin dei conti diciamo che anche il rosa è uno di quei colori che hanno a che vedere con l'arrivo della primavera e cose di questo tipo, quindi... All right! Ditemi com'è stato anche per voi questo periodo, se è stato un periodo un po' complesso come è stato per me o se invece state avendo un fantastico periodo, cosa che io mi auguro, raccontatelo. E poi sono curiosa anche di sapere se anche a voi quando stare... Allora, dovete sapere che la primavera è la mia stagione preferita. In realtà lo sono anche l'autunno e l'inverno, l'estate è l'unica stagione che non mi fa impazzire. Però la primavera è proprio la mia stagione, ecco, mettiamo in questi termini questa cosa. E quindi quando sta arrivando, io veramente comincio a sentire dei campanellini nel mio cervello che iniziano a suonare e dicono Primavera sta arrivando, primavera sta arrivando, primavera sta arrivando... E dentro di me è come se ci fosse una sorta di totale sconvolgimento in attesa della primavera che mi fa avere questi momenti in cui non vorrei fare nient'altro al di là del dormire o andare a fare almeno delle passeggiate fuori invece di stare a lavorare e cose di questo genere. Ma comunque in generale, ragazzi, comincio a sentire questa sorta di nostalgia, di sentimento del ritorno della primavera. Che lo so, è una cosa strana. Forse non riesco neanche a spiegare esattamente che cosa vuol dire, però vabbè, fidatevi, fidatevi sulla parola. Vado ad aggiungere un altro poco poco di rosa, perché sì, ragazzi, un'altra suonatura. Questa è un'assumatura un po' più spenta, che però secondo me ci sta bene insieme. Perché no? Bisogna mescolare le cose, bisogna fare qualcosa di... Che porta fuori dalla propria comfort zone. E anche se alla fine è una mess, non importa, perché comunque quando arriva la primavera bisogna rischiare. Anche con l'ombretto. Oh, altra domanda per voi da 100 milioni di dollari. C'è in questo momento qualche... Siccome in genere su questo canale, sapete ragazzi, io sono appassionata di storie misteriose, storie strane. E quindi spesso e volentieri parliamo di storie strane, sia quando facciamo video di trucco, sia quando facciamo mukbang, sia... Insomma, più o meno sempre. Su questo canale ci sono sempre storie un po' strane. Mi chiedevo se ci fosse qualche storia bizzarra che in questo periodo vi ha affascinato di più. O non so, magari se c'è qualche storia particolare che avete sentito raccontare anche su altri social, perché in questo momento vanno molto anche le storie virali, paranormali su TikTok e cose del genere. Se c'è qualche storia paranormale che vi ha colpito e che avete sentito in giro, raccontatemela perché sono curiosa. Voglio sapere quali sono le storie che in questo momento, le storie che vi prendono di più, le storie che vi piacciono di più. Vi avevo raccontato in un video dove mi truccavo con voi precedente del fantasma nel mio salotto in questa casa. Sapete, insomma, ve l'ho detto. Secondo me c'è non tanto un fantasma legato alla casa, ma un fantasma legato a un oggetto che ho comprato in un negozio che vendeva oggetti usati. E c'era, secondo me, qualcosa di attaccato a questo oggetto che avevo comprato. C'era questa sorta di presenza, secondo me, che c'era in questa casa, in questo salotto legato a questo oggetto, che per un certo periodo di tempo, più del solito, si stava facendo sentire. Si è fatta sentire più di quanto non si facesse sentire in precedenza, chissà per quale motivo. In realtà questa è una cosa che sarebbe interessante, anche magari scoprire, capire qual è stato il motivo che ha spinto questo fantasma, questa presenza a farsi sentire di più nell'ultimo periodo. E poi invece, ragazzi, adesso, da un po', si è di nuovo calmato tutto, come era calmo prima. Quindi questo fantasmino legato al paralume che vedo lì di fronte a me, ma che voi non potete vedere, sembra essersi calmato, perché c'è stato questo momento in cui accendeva, spegneva luci, faceva cose, sparivano delle cose, però poi si è calmato. Quindi mi è rimasta questa idea, non so, del sapere quale fosse stato il motivo che aveva spinto questa presenza a farsi sentire di più. Tra l'altro, ve l'ho sempre detto, in maniera simpatica, non in maniera aggressiva, non in maniera fastidiosa. E non lo so, all'improvviso mi sono chiesta chissà se tutta questa cosa non abbia a che vedere magari proprio con il fatto che sia stato un periodo un po' sbattuto, un periodo un po' di agitazione, cambiamenti, turbamenti e cose di questo genere. E magari questo fantasmino legato a questo paralume che abita nella mia casa, si è fatto sentire quasi come per dare un segno di... facendosi vedere un segno di presenza, di compagnia, di affetto, un segno positivo, come a dire, ci sono, non lo so, non abbatterci. Ho pensato, mi sono detta chissà, forse era una cosa più di questo tipo, no? E' interessante, è una bella cosa alla fine. Ora, essendo stata io ad applicare questo eyeliner bianco, se vi interessa sapere che eyeliner fosse, era quello di Kat Von D, che adesso non si chiama più Kat Von D perché lei ha lasciato andare la sua linea cosmetica, quindi non ho idea di come si chiama esattamente, ma si chiamerà sempre qualcosa del genere. Dicevo, essendo stata io a metterlo, ovviamente ho fatto un casino, ragazzi, perché io se metto l'eyeliner, cioè, un casino devo fare, non è possibile altrimenti, è da contratto, è proprio da contratto. Ma chi se ne frega, ragazzi, cioè, secondo me uno non deve essere necessariamente bravo per truccarsi o fare qualunque cosa, uno deve fare quello che gli va, poi se magari il risultato non è perfetto, Cioè, sapete quando è che uno deve essere perfetto? Deve essere perfetto quando vuole insegnare qualcosa agli altri. Se tu non vuoi insegnare niente a nessuno, vuoi farlo semplicemente perché ti piace, perché ti diverte, no? Secondo me chi se ne frega se non lo sai fare, non ci sono neanche regole alla fine. Spesso sento dire nel trucco ci sono cose che si fanno, cose che non si fanno. Ok, posto che magari ci possono essere delle cose che ti fanno sembrare più vecchia, ci possono essere delle cose che ti fanno sembrare più giovane, e magari quelle sono cose da rispettare perché si prestano a far stare meglio o peggio il tuo viso. Al di là di quello, secondo me, in realtà non esistono delle regole. Le regole sono divertirsi, fare qualcosa che ti faccia stare bene, fare qualcosa che, cioè, quando ti guardi allo specchio ti faccia sentire che ti piaci. Poi, se questa cosa che ti fa sentire che ti piaci è avere uno scippo arancione su una guancia e una cosa, un cuore enorme disegnato sull'altra guancia, o se è un trucco super raffinato, così è la stessa cosa, va benissimo. Fintanto che tu fai quello che ti piace, fai quello che ti fa star bene e te ne freghi di quello che poi magari gli altri pensano, di come ti trucchi, di come fai, di come ti dici, va tutto bene. Quindi, secondo me, nel make-up non ci sono regole, a meno che tu non stia cercando di insegnarlo da un punto di vista tecnico in una scuola di truccatori, ma quella è un'altra cosa. Chi si vuole truccare così perché semplicemente gli piace, può fare quel caspita che gli pare e quando uno parla di regole, fatto male, fatto bene, è una grande cavolata, secondo me, io non ci credo. Detto ciò, non mi ricordo se ve l'avevo detto, ho usato questa mascara di Anastasia Beverly Hills per le sopracciglia, che è nella taglia piccola, che come io ho detto io amo, io adoro i prodotti in taglia piccola perché finalmente così si possono smaltire, non li devi tenere per duemila anni, specialmente se ti trucchi poco. Non sono prodotti che ti restano in canna per l'eternità. E poi vi vado a mettere un po' di mascara e questo è quello di Tarte, che ve l'ho già detto in passato, ragazzi, non è esattamente il mio mascara preferito nell'universo, però siccome ce l'ho, non lo farò certamente andare precato e quindi lo uso. Oddio, non è malissimo, quando era liquido mi piaceva di meno. Ora che si è seccato un po' di più, secondo me va meglio, però comunque ce ne sono di migliori in giro. In realtà non ho capito la fascinazione per questa mascara, se devo essere onesta al 100%, ma vabbè. Poi anche questo, i prodotti in realtà alla fine sono tutti quanti una roba personale. Altra grande storia di imperfezione è quando hai un eyeliner bianco e ti metti il mascara e che stai a vedere, stai a vedere, non importa cosa tu farai, se sei una pasticciona come me, finirai sempre per macchiarti l'eyeliner con il mascara. Comunque tornando alla storia delle attività paranormali legate a quel paralume che vi ho raccontato in un video precedente, che vi dicevo adesso si sono improvvisamente così fermate, dopo un momento di abbondanza, improvvisamente si sono scemate. A me è venuta proprio questa idea che fosse un segnale come a dire ok ci sono magari specialmente perché è un periodo un po' per te, sappi che ci sono, ciao! Highlighter, questo di Glossier, si chiama Glossier, alleluia, ho detto il nome giusto! Perché ragazzi ve l'ho detto anche l'altra volta, ogni volta che provo a dire questo nome, non posso, mi sbaglio. La cosa che mi piace di questo highlighter è che c'è e non c'è, c'è e non c'è. Nel senso che per la maggior parte è super sottile come effetto e sta molto bene, specialmente secondo me quando uno non si mette tanto fondotinta, tanto correttore. Questo di fondotinta e correttori cos'è? Cioè, beh allora, vedete? Si vede per esempio che io qua ho delle macchiette rosse che non copre completamente quel prodotto che io ho messo prima, ma a me francamente non interessa perché comunque mi piace questo genere di effetto meno coprente. Quindi anche se magari io ho la pelle molto chiara, facilmente per qualunque cosa tende a comparire una chiazzetta rossa ogni tanto, mi si arrossano le guance, se c'è un po' di freddo, per qualsivoglia motivo, però per me non è un problema, non mi sento a disagio quando succede, quindi non sento la necessità necessariamente di andare a coprire tutto. Quindi, all right, anche se qua si vede il rosso alla fine adesso non fa niente. Non sento comunque la necessità di andarlo a coprire con un mare di fondotinta correttore. Poi, sta macchia rossa, in realtà adesso da dove è venuta? Da dove sarà apparsa? Che cosa l'avrà generata? Mistero. E avendo deciso questa macchia di comparire sul mio viso proprio adesso, in una zona estremamente inopportuna, cioè qua, forse non c'era neanche bisogno di mettere il blush, però comunque sto mettendo un pizzichino, pizzichino, pizzichino di questo blush in crema, sempre di Glossier. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Gning, 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 gning. Ne metto comunque un pochino e anche questo, secondo me, è uno di... Allora, è uno di quei prodotti che vanno bene quando una persona, sempre solita storia di prima, non vuole fare il mascherone, non vuole fare una cosa troppo pesante, ma vuole utilizzare qualcosa che sia più scintillante, più... Non mi viene la parola, però avete capito. Secondo me questo è proprio perfetto. Tra l'altro questo è uno di quei prodotti jolly che io adoro, amo quando si parla di trucco e cose del genere, perché è in un formato e, essendo in crema, ha tutto proprio perfetto per essere usato in più di un modo. Adoro i prodotti che sono multitasking, quindi guance, uno se lo mette e lo usa come blush, che è il motivo per cui questo prodotto è nato, però va benissimo anche se tu te lo metti come ombretto, te ne metti un po' come rossetto. E piccolo segreto, in genere, quando uno tende a far coincidere i colori sugli occhi, sulla bocca, sulle guance, è una cosa che dà un senso di ringiovanimento, quindi provateci se volete provare. Insomma, questo trucchetto ringiovanente, secondo me funziona. E qua, pip, improvvisamente è apparsa questa giazza rossa. Mi avrà morso la zanzara fantasma. Molto possibile. In questa casa può succedere di tutto. Tra l'altro poi, prima o poi, ragazzi, vi racconterò delle altre... Vabbè, questa storia del paralume, insomma, era una cosa piccolina, però vi racconterò di tante altre storie, insomma, di fantasmi, perché io sono proprio vissuta in case che erano abbastanza infestate. Quindi ci sono tante storie da raccontare a questo proposito. Fatemi sapere se vi interesserebbe ascoltarle. Allora, adesso, ragazzi, io come al solito arrivo ad un punto in cui mi dico sono in dubbio su quello che voglio mettere sulle labbra. Sono in dubbio perché in realtà ci sono un po' di opzioni che sto considerando. Un'opzione è utilizzare lo stesso prodotto che ho messo sulle guance, un po' sulle labbra. Un'altra opzione... Cioè, mettere questo anche qui. Un'altra opzione è utilizzare un gloss trasparente, sempre di Glossier, che è super 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 gloss e trasparente, però non lo so. Un'altra opzione potrebbe essere utilizzare questo prodotto che è molto leggero ed è un prodotto coreano, in questa confezione è molto molto carina che ricorda una marmellatina o una cosa del genere. Oppure utilizzare, cambiare, invece di utilizzare, siccome non ho utilizzato cose opache, 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 opache su tutto il resto del viso, mettere un rossetto opaco, quindi potrei utilizzare questo. Voi che cosa utilizzereste? Ma sì, cambiamo un po' con tema e vediamo di mettere questo rossetto opaco che tra l'altro volevo mettere anche l'altra volta e non l'avevo messo, quindi proviamolo insieme adesso ed è quello di Tarte. 99% delle volte quando mi vedete truccare sulle labbra, ma in generale vedrete utilizzarmi colori che non sono matte, che non sono super matte e è raro proprio che io finisca per utilizzare dei colori matte. Però in questo caso, ve l'avevo detto, questo prodotto mi era piaciuto molto, era uscito da un set natalizio, è di Tarte. Nell'insieme, ora, chiazza rossa qui, un po' qui anche se sta facendo a parte, tipo pimpa, non fa schifo, non fa schifo. E insomma ragazzi, il risultato di questo, prepariamoci insieme, è super veloce oggi, veramente super improvvisato, super veloce, è questo. Fatemi sapere se secondo voi l'ombretto rosa è carino oppure no, ma d'altra parte ragazzi, lo ripeto, ve l'ho detto prima, secondo me in generale quando uno si trucca, in questo caso, per me, per tutti, a volte anche a me non canale, capita, capitato insomma, che ci fossero persone che scrivono, vabbè, tanto quelli che ti scrivono cose tipo fai schifo, non li calcolo proprio, perché già se tu stai scrivendo a un'altra persona che neanche conosci, in realtà fai schifo, per come si è truccata o per qualche motivo del genere, il problema è tuo, non è di quella persona. Però spesso si trovano dei commenti, comunque, secondo me non sta bene, secondo me è brutto, così, e in quei commenti, cioè, a me in realtà non è che, non mi hanno mai spinta a cambiare comunque le cose che mi piacevano, no? Perché proprio come vi dicevo prima, secondo me la cosa fondamentale del trucco, del make-up è che devi piacerti tu, quindi se tu ti piaci, certo è una conferma se qualcuno ti dice stai bene oppure no, però in definitiva, secondo me, la cosa fondamentale, ma in tutte le cose della vita, è essere veramente padroni di quello che ci piace, no? E farlo anche se magari agli altri fa schifo, tipo, se 30 persone ti guardano e ti dicono il tuo eyeliner fa schifo, ma a te piace, frega tene di quelle 30 persone e continua a fare il tuo eyeliner, anche se poi il resto del mondo fa schifo, vabbè. Che discorsi filosofici, ragazzi, in questo pomeriggio che proprio è un po' così? Io vi ringrazio per essere stati con me, mi fermo qui, mi do appuntamento al prossimo video e grazie, grazie, grazie un milione per essere stati con moi. Ciao! Ciao!